Salve a tutti sono Marco Salvini fotografo e studente di scienze naturali presso la Sapienza di Roma sono appassionato di fotografia naturalistica e negli ultimi anni mi sono avvicinato anche a video particolari come il timelapse e la stop motion il mio percorso di studi mi ha permesso di apprezzare il fragile equilibrio che caratterizza gli ecosistemi da questo primo pensiero è nata l'idea di creare un documentario che rappresentasse in maniera particolare e con uno stile proprio la mia terra il timelapse è una tecnica particolare che permette di condensare il tempo giorni diventano ore ore diventano minuti e questo permette di mostrare i cambiamenti che spesso passano in osservare il documentario presenterà un ambiente vario come pochi con riprese particolari come riprese aeree macro timelapse e di grande rilevanza sarà anche il sonoro infatti ci sarà un'ottima colonna sonora che sarà accompagnata anche da suoni ambientali che permetteranno allo spettatore di avere un'immersione totale nella natura iscriviti al canale per farmi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.